Dopo l'omicidio ha portato la pistola sulla tomba della moglie e poi si è costituito. È un dramma nel dramma quello che si è vissuto nel pomeriggio a Vasto. Fabio Di Lello, atleta e calciatore in passato del San Salvo, della Provasto e del Cupello, marito della 34enne Roberta Smargiassi, morta in un incidente stradale accaduto a Vasto la scorsa estate, ha deciso di farsi giustizia da solo aspettando armato Italo Delisa a 22 anni fuori dal bar Drinkwater sulla trafficatissima circonvallazione istoniense. Un agguato in piena regola con quattro colpi di pistola esplosi da breve distanza per un regolamento di conti con il ragazzo che la sera del primo luglio del 2016 era la guida della Fiat Punto contro la quale all'incrocio tra Corso Mazzini e via Giulio Cesare è finito lo scooter guidato da Roberta Smargiassi che poi carambolato su una terza vettura che proveniva nel senso opposto di marcia. Una tragedia che ha segnato profondamente la psiche di Di Lello, fresco sposo per le nozze celebrate qualche mese prima. All'uomo evidentemente non sono stati sufficienti l'affetto dimostrato dai vastesi che avevano anche organizzato qualche giorno dopo l'incidente una fiaccolata per chiedere giustizia per la donna e che in massa avevano partecipato ai funerali e nemmeno l'inchiesta aperta dalla magistratura che nel novembre dello scorso anno aveva chiuso le indagini e acquisito le perizie disposte per fare luce sulla dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Alle 17.35 un'ora dopo il delitto al cimitero di Vasto sulla tomba di Roberta Smargiassi i carabinieri hanno trovato la pistola usata per uccidere il 22enne. Prima di consegnarsi alle forze dell'ordine Fabio Di Lello avrebbe chiamato un amico dicendogli che aveva ucciso l'assassino di sua moglie e annunciandogli che si stava recando al cimitero per salutare la sua Roberta. Avrebbe chiamato poi il suo avvocato Giovanni Ciarella indicandogli dove si trovava in quel momento. I primi a raggiungere il cimitero sono stati i carabinieri che hanno rinvenuto l'arma custodita in una busta di plastica trasparente. In via aperte ci sono stati rilevi della scientifica che sta procedendo per le indagini per omicidio volontario coordinate dal procuratore capo di Vasto Giampiero Di Florio.